È una sentenza sicuramente destinata a far discutere quella emessa dal Tribunale di Prato che in una causa di divorzio ha dato ragione al marito, motivando la decisione anche col fatto che la moglie aveva tenuto un comportamento inadeguato sul popolare social network Facebook. Protagonisti una coppia di coniugi cinquantenni, la donna è stata condannata non solo a lasciare la casa coniugale al marito, ma anche a versare al coniuge un assegno mensile di 200 euro per contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non ancora indipendente dal punto di vista economico. Nella sentenza sono più di uno i passaggi dove si accenna al profilo Facebook della signora. Ad esempio si cita una foto dove la donna è ritratta in discoteca insieme alla figlia, allora sedicenne, con dei leghi insattillati che il giudice ritiene inadeguati per una cinquantenne. Così come secondo il giudice discutibili sarebbero sia i commenti che la donna lascia in calce ad alcune foto della figlia, sia quelli dove alluderebbe, senza troppi fingimenti, ad incontri di natura sessuale con un altro uomo. Tutto questo, secondo il giudice Angela Fedelino, darebbe l'immagine non di una moglie vessata e sofferente, bensì di una donna libera e disinibita, motivazioni sufficienti a dare ragione al marito, attribuendo proprio alla signora la colpa della fine del matrimonio, con tutte le conseguenze economiche che ne derivano.